Due giornate interamente dedicate agli sposi e alla programmazione del loro giorno più importante. 32 professionisti hanno unito le forze partecipando all'evento Sposiamoci, giunto alla seconda edizione. Presenti fotografi, musicisti, fioristi, gioiellerie, negozi di estetica e bomboniere, atelier di moda, tipografie, parrucchieri, negozi di arredo e design per liste nozze, pasticcerie e agenzie di viaggio. Un messaggio forte, quello lanciato dai commercianti aquilani che in un momento non facile per l'economia post-sisma della città hanno voluto stringersi attorno l'uno con l'altro, lasciando da parte la concorrenza. Ciascun espositore ha avuto a disposizione un proprio angolo per mettere in mostra novità e offerte da presentare ai visitatori. La maggior parte futuri sposi. L'idea è nata da Giulia, del proprietario del ristorante Villa Giulia. Lei, forte dell'esperienza ovviamente pluriennale della loro struttura, ha pensato di coinvolgere in una unione di professionisti, creare la possibilità per il pubblico aquilano e non solo perché ci sono spesso presenti anche coppie del territorio marzicano, proporre comunque un nucleo di professionisti di alto livello per dare alle coppie in procinto, diciamo di organizzare il loro matrimonio, una proposta di un livello sicuramente elevato. È un livello che tra l'altro molte persone non sanno, ma i professionisti che ruolano intorno al matrimonio nella zona dell'Aquila, nella città dell'Aquila, sono di un livello tutti quanti, di un livello molto molto alto sul territorio nazionale. Special guest della mattinata di domenica, la senatrice Stefania Pezzopane, che nel 2017 convolerà a nozze con il compagno Simone. Per la coppia vip aquilana del momento, sposiamoci, è stata l'occasione per programmare il futuro matrimonio. Stiamo vedendo, nel 2017 abbiamo programmato il nostro matrimonio.